Grazie, Presidente. Per articolo 1, Movimento Democratico e Progressista, il tratto distintivo della vicenda Consip è, come ha ricordato nel suo intervento di stamattina il senatore Gotor, la commissione fra affari, politica e istituzioni che si evince dalle reti strette, i legami amicali, i favori e le pressioni che ci vengono raccontate. In questo contesto, concentrare l'attenzione sui soli vertici Consip è, secondo noi, limitativo, insufficiente e, per certi versi, fuorviante. La nostra mozione, pur amputata nel dispositivo, conserva un tratto che la distingue da tutte le altre. Nella nostra mozione, infatti, e solo nella nostra, si afferma come imprescindibile l'indissolubilità del legame fra le vicende del Ministro per lo Sport, Luca Lotti, e quelle dell'amministratore delegato di Consip, dottor Luigi Marroni. Per questo voteremo la nostra mozione, mentre esprimeremo un voto contrario sulle altre.